Megalod 2 riceve un secco no dal comitato via valutazione impatto ambientale. La decisione in programma alla cui laieri aveva visto mettersi sul piede di guerra ambientalisti e associazioni di commercianti che da anni denunciavano il depauperamento del comparto a causa della massiccia presenza di centri commerciali nell'area metropolitana Chieti Pescara. Dall'altra parte a chiedere lo stop all'imponente progetto erano stati anche gli ambientalisti che denunciavano il rischio idrogeologico dell'area in questione. Nella giornata del pronunciamento della commissione presieduta dal dirigente regionale Cristina Gerardis a mobilitarsi per una protesta sotto al palazzo del comitato oltre 200 commercianti venuti dalle quattro province guidate da Confcommercio. Prima della decisione la commissione ha ascoltato le ragioni dei rappresentanti dei commercianti che provincia per provincia hanno messo in luce le difficoltà dei propri territori. Secondo Confcommercio Teramo guidato da Gianmarco Giovannelli il dato da tenere ben presente il fallimento della grande distribuzione in Val Vibrata con il rischio di abbandono per le grandi strutture rimaste incompiute. Marisa Tiberio di Confcommercio Chieti ha ribadito l'impoverimento del comparto dei piccoli esercenti causato dalla presenza del centro commerciale che ha portato alla desertificazione dei clienti sia nel centro città che allo scalo. Riccardo Padovano di Confcommercio Pescara ha ricordato che il numero di centri commerciali presenti nella regione Abruzzo la attesta al secondo posto in Europa senza contare il rischio esondazione dell'intera area. Infine Confcommercio L'Aquila ha denunciato l'abbandono della regione nei confronti di un territorio che dal terremoto 2009 non è riuscito a ricostruire attività ed edifici che impongono ai residenti l'esodo verso altre strutture. In terza serata è arrivata la notizia della bocciatura del progetto che si è da un lato ha visto esultare commercianti ambientalisti dall'altra ha visto pronunciarsi il progettista della società realizzatrice del progetto di ampliamento Megalod 2 che ha annunciato la battaglia con un ricorso al TAR per illegittimità e la richiesta di risarcimento danni.